Dal tramonto a tarda sera, con location particolari e suggestioni per tutti i gusti. Così la giornata più fitta ed articolata di questa edizione di naturalmente pianoforte ricca di coincerti e performance. Tra i vigneti della tenuta a casa dei di scena, Mirko Mariani, storico polistrumentista romagnolo, anima e fondatore degli extra di show con Massimo Simonini. Non piagni amore mio, non piagni amore, non piagni state zitto su sto cuore. La musica secondo me c'è una parte che si chiama caso, allora da sera diamo proprio spazio alla casualità perché sono con Massimo Simonini. Sappiate che le ultime due opere, Stoccausa, le ho scritte proprio per Massimo Simonini. Sai, lì siamo nei mondi più astratti possibili. Stasera cerchiamo di portare la canzone, fare uscire la canzone che è una forma molto semplice, tra virgolette semplice. Dalla casualità, da paesaggi magari come qua, infiniti, dove ci si può perdere. A poppi sul palco di piazza Saiacopo Bordoni, Fabrizio Bosso e Giulian Oliver Mazzariello che con una strumentazione fondata sul dialogo tra pianoforte e tromba hanno reso omaggio alla memoria di Pino Daniele. E contemporanea Bibiena, un set dedicato alla canzone ed autore rock al femminile She's a Woman firmato da Enzo Guaitamacchi, Brunella Boschetti e Andrea Mirò. Era la più grande manifestazione, la più grande folla pubblica mai raccolta prima d'allora ed erano tutti andati lì per rivendicare i loro diritti. Erano andati tutti lì per ascoltare il sermone del reverendo Martin Luther King. Al fianco di Martin Luther King, sul palco posizionato sotto il Lincoln Memorial, c'erano due grandi regine della musica, Mahalia Jackson, la regina del gospel, e John Byers. Grazie a tutti.